I fotografi che hanno inseguito Harry e Meghan si difendono e incredibilmente accusano di rimando. Ma andiamo a vedere cosa è successo. L'agenzia fotografica che ha acquistato le foto del quasi catastrofico inseguimento, parole dei duchi di Sussex, è niente di meno che Beck Grit, che su questi lì di ho accusato da tempo di essere in collusione con Meghan Markle per l'organizzazione delle sue foto rubate. Ebbene, Beck Grit dichiara Vogliamo chiarire che abbiamo ricevuto foto e video degli eventi di martedì notte da quattro nostri fotografi freelance. Tradotto, se ci sono delle colpe, sono loro e non nostre. Tre dei fotografi erano in macchina e uno guidava una bicicletta. È importante notare che costoro hanno la responsabilità professionale di coprire eventi e personaggi degni di nota, incluse figure pubbliche come il principe Harry e Meghan Markle. Qui la frecciata è sottilissima. Proprio un martedì sera Meghan è stata premiata col nome duchessa di Sussex. Beck Grit la riduce a mera signora Markle. Ora parlano i fotografi, che smentiscono le accuse e le rilanciano al mittente. Uno dei quattro SUV facenti parte della scorta del principe Harry guidava in una maniera che può essere percepita come pericolosa. Il veicolo è stato visto bloccare le strade e in un video si vede come venga fermato dalla polizia. Interessante! Ci sarebbe da vedere questi video. Forse è questo il motivo per cui ora Harry e Meghan pretendono di entrarne in possesso. Se volete saperne di più, a brevissimo la parte 2 e seguitemi per tante news reali. Meghan Markle contro Beck Grit. Parte 2 di una saga appena iniziata. Mettetevi comodi. Dopo che i fotografi hanno accusato Harry e Meghan di essere stati loro a causare i quasi incidenti che hanno denunciato al mondo intero, ora attraverso i loro legali i duchi di Sussex chiedono di entrare in possesso dei video e delle fotografie dell'inseguimento di martedì sera. Lo pretendono in maniera immediata. Sarà per impedire all'agenzia fotografica di smentirli o serve materiale per la seconda stagione della docu-serie Netflix? La risposta di Beck Grit è un metaforico dito medio alzato, con tanto di lezione sulla Costituzione americana. In America la proprietà appartiene a chi ne ha in possesso. Terze parti non possono domandarne la consegna come possono fare i re. Forse, dicono quelli di Beck Grit rivolgendosi agli avvocati, dovreste sedervi col vostro cliente e raccontargli che la prerogativa reale di domandare alla cittadinanza di cedere i propri possedimenti alla corona è stata rigettata da questo paese molto tempo fa. Ci accodiamo i principi dei nostri padri fondatori. La cosa diventa sempre più ridicola, soprattutto in considerazione del fatto che finora tutte le foto di Meghan divenute pubbliche erano proprietà di Beck Grit. Considerato che l'agenzia ha fama di fare accordi per finti scoop e diverse foto di Meghan Markle negli ultimi mesi sembrano tutt'altro che paparazzate, la domanda sorge spontanea. Se la duchessa di Sussex si mette a litigare con l'unica agenzia che le d'accorda, chi altro potrà contattare quando vorrà finire sui giornali? O magari si è tirata involontariamente la zappa sui piedi da sola ed è solo Harry, come lascia intendere Beck Grit, che vuole denunciarli, in quanto completamente ignaro di qualunque accordo tra sua moglie e l'agenzia. Chi vivrà vedrà, molto probabilmente, sugli schermi Netflix. Seguitemi per altre news reali.